Allora, sicuramente quelli che abbiamo di fronte sono degli avvenimenti clamorosi che non solo hanno impressionato tutto il mondo, ma che avranno sicuramente delle ripercussioni molto importanti. E noi di fronte a quello che sta accadendo di solito ci vengono propinate due ricostruzioni diverse. La prima è quella più diffusa, Putin nuovo Hitler che invade l'Ucraina libera e democratica. Poi c'è un'altra invece più minoritaria, ma che è comunque presente per esempio a sinistra, che ci parla invece di un Putin eroe antiimperialista che combatte contro i fascisti di Kiev. Noi non possiamo accettare nessuna di queste due ricostruzioni, che sono entrambe false, e noi dobbiamo invece sviluppare una posizione indipendente, né con Biden né con Putin, ed è fondamentale che il movimento dei lavoratori e anche il movimento giovanile, il movimento studentesco, portino avanti una loro posizione indipendente di fronte a quello che sta accadendo. E la prima cosa che dobbiamo fare è capire quello che sta accadendo e per capire dobbiamo fare qualche passo indietro. Innanzitutto dobbiamo tornare al crollo dell'Unione Sovietica all'inizio degli anni 90. In quell'epoca, con la restaurazione del capitalismo in Russia, ci fu un vero e proprio collasso dell'economia. La Russia a quei tempi era un paese molto debole, un paese in bancarotta, militarmente indebolito, e gli Stati Uniti ne approfittarono per avanzare, avanzare a est, avanzare nei paesi dell'Europa orientale e conquistare una posizione egemonica in quelli che erano una volta i paesi del patto di Varsavia. Oggi invece la situazione è differente, la Russia si è ripresa, si è rafforzata, è una potenza perlomeno a livello regionale. Gli Stati Uniti invece stanno vivendo un periodo di relativo declino. Sicuramente ha avuto un enorme impatto negli Stati Uniti il fallimento epocale delle missioni militari che hanno portato avanti in Afghanistan e in Iraq, che hanno rappresentato un salasso di soldi, di uomini, di risorse e che non ha portato a nessun risultato soddisfacente, anzi che ha peggiorato la posizione dell'imperialismo americano a livello internazionale e che si sono concluse in modo inglorioso, credo che tutti ricorderete la umiliante ritirata dall'Afghanistan che c'è stata poco tempo fa e credo che per comprendere questi rapporti di forza e come sono cambiati si possa pensare anche a quello che è accaduto durante la guerra in Siria, dove indubbiamente gli Stati Uniti hanno svolto un ruolo nel destabilizzare quel paese, ma non hanno potuto condurre un intervento militare, sono intervenute invece le forze russe che in qualche modo hanno consentito al regime di Assad di sopravvivere. E quindi è chiaro che le passate esperienze in Iraq e in Afghanistan hanno lasciato il segno e la capacità di inviare truppe da parte degli Stati Uniti oggi è più limitata, questo non sarebbe più accettato a livello di massa all'interno degli Stati Uniti. E dunque vediamo come in questo scontro tra potenze, con gli Stati Uniti come potenza principale in declino dall'altra e la Russia che si è ritagliata invece un suo ruolo di potenza regionale, in particolar modo nell'area delle ex repubbliche sovietiche, in questo scontro di potenze l'Ucraina è uno dei campi di battaglia. E lì un punto di svolta c'è stato sicuramente nel 2014 con il movimento di cosiddetto Euro Maidan. Quel movimento fu diretto contro l'allora governo di Yanukovych che era sicuramente un governo reazionario, che era sicuramente un governo corrotto, che era un governo dell'oligarchia ucraina, ma non è per questo che quel governo fu rovesciato, il problema di quel governo è che era considerato eccessivamente filorusso. E quindi si sviluppò questo movimento che viene presentato come appunto una rivoluzione, ma che in realtà non fu una rivoluzione, fu un movimento di piazza egemonizzato da forze reazionarie, da forze ultranazionaliste e anche da elementi fascisti. Un movimento che fu finanziato, foraggiato, sostenuto dalle potenze occidentali, uno dei cui obiettivi era proprio quello di far entrare l'Ucraina nell'Unione Europea e nella Nato. A seguito di questo movimento e con la caduta di Yanukovych si instaura a Chievo un nuovo governo, un governo ultranazionalista, un governo antirusso, e che era attivamente appoggiato dalle milizie fasciste ucraine. E' importante capire la natura di quel nuovo governo che si instaurò se pensiamo che appunto, venivano distrutti i vecchi monumenti dell'era sovietica e venivano invece esaltati gli elementi che durante la seconda guerra mondiale erano stati dei collaborazionisti dei nazisti, per esempio il movimento di bandera. Quel governo iniziò a portare avanti una oppressione delle minoranze russofone che vivevano all'interno dell'Ucraina. Per esempio ci fu una regola, una revoca dei provvedimenti che riconoscevano l'autonomia in quelle regioni e soprattutto si provò a introdurre una legge che vietava di utilizzare lingue diverse dall'Ucraino. E questo era un problema in un paese dove comunque c'era una importante minoranza russofona che viveva. E si scatenò anche la violenza dei gruppi fascisti contro la popolazione russofona. Io credo che l'esempio più clamoroso di questo è stata la strage di Odessa dove vennero bruciati vivi dentro la sede della camera del lavoro, dentro la casa dei sindacati di Odessa, 48 persone tutte morte e in più ci furono altri 174 feriti durante quegli incidenti. E questo è solo l'esempio più clamoroso delle violenze che vennero esercitate. E tutto questo ha prodotto una reazione nelle zone con la maggioranza della popolazione russofona, in particolar modo in Crimea. Ci furono proteste contro il nuovo governo e si arrivò anche a un referendum a favore della indipendenza. E lì sicuramente i russi giocarono un ruolo importante. In base a una serie di accordi, per esempio i russi avevano delle basi militari in Crimea e sicuramente sfruttarono la loro posizione per influenzare quello che gli è accaduto, però è anche vero che c'era una spinta reale da parte della popolazione rispetto alle nuove politiche che venivano dal governo di Kiev. E lo stesso è accaduto nell'Ucraina orientale, in particolar modo nell'area del Donbass, che comunque è un'area economicamente importante, era il vecchio bacino industriale dell'Ucraina che vedeva una forte presenza di classi operaia, minatori, fabbriche e via dicendo. E anche lì ci sono state proteste, ci sono stati scontri armati da parte della popolazione locale contro queste misure, contro la popolazione russofona. Anche lì si arrivò sempre nel 2014 ad un referendum con la nascita di queste repubbliche del Donetsk e di Lugansk, all'interno delle quali c'erano degli elementi oggettivamente eterogenei, c'erano sicuramente anche elementi comunisti, c'erano elementi che si richiamavano alla resistenza sovietica contro i nazisti, ma c'erano anche dei nazionalisti russi e anche degli agenti di Mosca. A seguito a questa proclamazione di indipendenza delle repubbliche del Donbass c'è stata una vera e propria guerra civile in Ucraina, il governo ucraino provò a riprendere il controllo di quelle zone senza riuscirci, con una guerra sanguinosa dove comunque si sono contati più di 14 mila morti e sicuramente le repubbliche del Donetsk e di Lugansk riuscirono a resistere, indubbiamente anche qui la Russia svolse un ruolo con agenti, consiglieri, fornendo appoggio, armi e quello che si vuole, ma anche qui è importante capire come c'era una base reale comunque tra la popolazione russofona. Questo scontro del 2014, questa che è passata poi alla storia come la guerra del Donbass, si è conclusa con quelli che vengono chiamati gli accordi di Minsk, che però non sono stati un vero accordo di pace, di fatto hanno semplicemente cristallizzato la situazione che c'era, lo stallo con le due repubbliche che rimanevano staccate dall'Ucraina e il governo che doveva rinunciare al tentativo di riconquistarlo. Quindi semplicemente questi accordi di Minsk hanno cessato il fuoco, ma niente di più. Peraltro va detto che rispetto a questa situazione eterogenea che c'era nelle repubbliche popolari del Donbass, dal 2014 a oggi la situazione si è trasformata, è andata a cambiare, nel senso che la Russia ha consolidato il suo controllo su queste repubbliche e tutti gli elementi che in qualche modo erano anche più legati alle masse, alla classe lavoratrice, elementi indipendenti, sono stati messi ai margini, hanno anche subito un'azione di repressione e di fatto nel corso di questi ultimi anni la Russia ha di fatto assunto completamente il controllo di queste due repubbliche e che sono di fatto diventati due stati fantoccio della Russia. Perché proprio ora si è creata questa crisi che è scoppiata in una guerra aperta con l'invasione dell'esercito russo? E qua credo che è importante che noi comprendiamo come a livello internazionale ci troviamo in una situazione economica particolarmente complessa, con una crisi economica, con le conseguenze di quella che è stata la pandemia del Covid e con una serie di conseguenze che stiamo vedendo a livello economico, per esempio con quello che sta accadendo oggi con il rialzo dell'inflazione in una serie di paesi. E tutto questo comporta che le tensioni tra i diversi paesi capitalisti crescono, le tensioni sono sempre più forti e si esprimono in tante maniere, si esprimono con le misure economiche, per esempio le misure di protezionismo economico, con le guerre commerciali tra i diversi paesi, la più clamorosa è quella tra Stati Uniti e Cina ma non è certamente l'unica, ma qua si passa dalle misure economiche e si passa anche a quelle che sono degli scontri militari veri e propri come quello che stiamo vedendo oggi. E sicuramente la situazione economica spinge anche a cercare di stornare il malcontento a livello di massa verso dei nemici esterni. Questo sicuramente in Russia sta svolgendo un ruolo. Comunque nell'ultimo periodo in Russia la situazione economica è nettamente peggiorata, anche lì c'è un'inflazione molto forte al 9%, anche lì i livelli di disoccupazione sono i più alti da dieci anni a questa parte e ci sono i problemi legati alla gestione della pandemia anche lì e tutto questo ha contribuito a indebolire la posizione interna di Putin e Putin in questo momento sta cercando di ottenere dei successi in politica estera allo scopo di consolidare la sua posizione all'interno. Ma se questo vale per Putin vale anche per tutti gli altri paesi che sono in qualche maniera coinvolto. Anche in Ucraina la situazione economica è anche prima dell'invasione era estremamente precaria e indubbiamente lo stesso Zelensky, il presidente ucraino, che quando è stato eletto, era stato eletto anche sulla base di un programma che in qualche modo prometteva di avviare un dialogo con la Russia, una politica di appeasement con la Russia, anche per la pressione interna, per la situazione interna sempre più difficile ha dovuto radicalizzare le sue posizioni anche per l'opposizione appunto delle forze ultranazionaliste, delle forze fasciste che continuano a svolgere un ruolo importante sulla scena politica ucraina. E dunque questa situazione a livello internazionale ha creato appunto le condizioni per questo scontro e creerà le condizioni perché scontri di questo tipo si possono verificare anche in altre parti del mondo. Indubbiamente la Russia ha visto un'occasione per intervenire anche, come dicevo prima, dopo la ritirata degli Stati Uniti dall'Afghanistan, che è avvenuto appunto in modo particolarmente umiliante e dunque ha pensato che ci fossero le condizioni per poter agire. Putin ha cominciato schierando al confine le sue truppe, cercando di ottenere delle concessioni da parte degli Stati Uniti, da parte dell'Unione Europea, da parte dell'Ucraina e c'è da dire che su questo gli Stati Uniti, paesi europei eccetera hanno adottato una politica estremamente miope e dove da una parte non hanno fatto nessuna concessione a Putin, anzi hanno fatto la voce grossa contro la Russia, ma dall'altra parte non hanno fornito all'Ucraina alcun aiuto militare consistente che le potesse consentire di resistere ad un eventuale attacco da parte della Russia. Anzi, quello che nelle scorse settimane era emerso è che questo blocco occidentale era molto meno compatto di quello che poteva sembrare, per cui l'Italia durante la tensione i principali manager delle principali aziende italiane si incontravano in videoconferenza con Putin per discutere delle forniture di gas e degli investimenti italiani in Russia e cose di questo tipo. Anche paesi come la Germania, che hanno grossi interessi economici con la Russia, il gas innanzitutto, avevano adottato una posizione molto distaccata rispetto a quella degli Stati Uniti, dove si sono rifiutati di inviare armamenti in Ucraina e così via. Macron ha provato a giocarsi la sua partita, provando a promuovere dei colloqui che coinvolgessero Russia, Ucraina, Germania e Francia, ma bypassando gli Stati Uniti. Ogni paese ha cercato di portare avanti i propri interessi e questo ha determinato una situazione di stallo, dove Putin aveva le sue forze, l'Occidente ha chiarito più volte che non avrebbe inviato le proprie truppe a sostenere l'Ucraina, ma allo stesso tempo non faceva concessione di nessun tipo. E questo ha determinato una svolta nella situazione, ma ha detto che anche noi non pensavamo che quello che è accaduto fosse lo scenario più probabile, ma invece questa situazione ha fatto sì che si creasse rapidamente un escalation con l'intervento russo. E qua appunto si è visto comunque un ruolo cinico dell'imperialismo americano, dell'imperialismo occidentale in generale, che ha utilizzato l'Ucraina per cercare di contenere, di creare una pressione contro Putin e che però appunto poi non ha fatto nulla per sostenere quello che teoricamente era il popolo che voleva difendere con parole così roboanti. Lo stesso Zelensky se ne è reso conto nel messaggio che ha mandato stanotte nascosto da qualche parte, ha detto che ci avete lasciato completamente soli e si è reso conto di questo. E allo stesso modo però lo stesso Putin ha utilizzato le repubbliche separatiste come un pretesto, la difesa di questa repubblica come un pretesto per entrare nel paese dentro l'Ucraina. E quindi vediamo come queste grandi potenze utilizzano i popoli come merce di scambio, come pedina del loro gioco ma non gli interessa assolutamente niente di quello che poi accade alla gente lì. Ora io qui non voglio fare delle prospettive militari su come andrà questo scontro, è evidente che sembra che le truppe russe stiano dilagando però è importante provare a fare alcune considerazioni. E la prima è che se le truppe russe hanno potuto contare su un certo appoggio, per esempio in Crimea o per esempio appunto nella zona del Donbass dove appunto la maggioranza della popolazione è russofana, al di fuori di queste aree le truppe russe non troveranno lo stesso tipo di accoglienza, la popolazione sarà indubbiamente più ostile. Putin potrebbe anche colpire le infrastrutture militari e poi ritirarsi come aveva fatto in passato per esempio nel 2008 nell'attacco contro la Georgia oppure però dobbiamo capire che questa è una possibilità ma potrebbe anche trovarsi e restare impantanato all'interno del territorio ucraino. È chiaro che le guerre si sa come cominciano ma è più difficile capire come possono concretamente svilupparsi, degli errori di calcolo sono sempre possibili e potrebbe aver fatto il passo più lungo della gamba, non tanto per la reazione dell'Occidente che è stata appunto cinica e ipocrita ma per la resistenza del popolo ucraino se dovesse mantenere una occupazione più a lungo nei territori che vanno oltre il Donbass e la Crimea. Questo potrebbe avere ripercussioni anche all'interno della Russia se lui dovesse incominciare a trovare delle difficoltà in queste operazioni che sta portando avanti sul lungo termine poi potrebbero sumentrare, potrebbero verificarsi anche dei problemi che andrebbero a crearsi anche all'interno della Russia. Su questo lo vedremo, quello che per il momento è chiaro è che questo attacco contribuisce a seminare il veleno nazionalista e aumentare le divisioni tra la popolazione russa e quella ucraina. E dunque è evidente che visto che la NATO non è intervenuta non ci sarà una terza guerra mondiale con le bombe atomiche e tutto quanto, però dobbiamo capire che il contesto internazionale che è dato con le caratteristiche che c'è. Guerre di questo tipo potranno ripetersi, potranno essere frequenti, potranno verificarsi anche in altre parti del mondo. Perché il capitalismo in crisi produce questo tipo di scontri tra le potenze dove ogni potenza prova a esportare i propri problemi economici nei paesi vicini e prova a risolvere i propri problemi a scapito dei paesi vicini. E questa è la ricetta perché appunto non ci siano solo guerre di carattere economico e commerciale ma che si possa poi dare anche la parola alle armi. Da questo punto di vista è evidente che l'azione di Putin non ha nulla di progressista. Lui ha parlato di denazificazione ma si tratta di retorica. Anzi, se vogliamo dirla tutta, la Russia negli ultimi anni ha svolto anche il ruolo di bastione della controrivoluzione a livello regionale. Per esempio ha garantito il proprio appoggio al governo di Lukashenko durante le mobilitazioni di massa in Bielorussia e questo ha facilitato il compito a Lukashenko che gli ha permesso di sopravvivere. Infatti le forze bielorusse hanno cooperato nelle manovre al confine con quelle russe. Ma per esempio recentemente nel mese di gennaio ha inviato le proprie truppe in Kazakistan dove era in corso una mobilitazione del carattere semi-insurrezionale che vedeva un ruolo centrale della classe operaia kazaka e anche qui l'intervento delle truppe russe ha consentito al regime in Kazakistan di riprendere il controllo della situazione. Quindi questo è il ruolo che svolge la Russia a livello internazionale. Come dicevo prima, le repubbliche separatiste di popolare gli è rimasto ben poco e il carattere reazionario della politica di Putin è emerso in questa dichiarazione che ha fatto sull'Ucraina con l'Ucraina fondata da Lenin, creata da Lenin e questo ha dimostrato che appunto la posizione di Putin non è quella del ritorno all'Unione Sovietica, ma è più il ritorno all'impero zarista e che appunto la sua posizione esprime niente di più e niente di meno che il nazionalismo grande russo. E qua è importante rivendicare appunto l'abisso che c'è stato invece con la rivoluzione del 1917, in particolar modo la rivoluzione d'ottobre e la politica che i bolshevichi portarono avanti nel 1917, perché qui è vero che ha un ruolo fondamentale il diritto all'autodeterminazione dei popoli che venne concesso a tutte le minoranze nazionali che vivevano all'interno dell'impero zarista. Questo fu un passo fondamentale che consentì ai bolshevichi di conquistarsi l'appoggio di molte delle minoranze nazionali che vivevano all'interno dell'impero zarista e che soprattutto consentì a una serie di popoli di poter decidere su quello che era il proprio destino e decidere appunto se continuare a essere federati alla Russia sovietica su basi appunto volontarie, su basi paritarie oppure se distaccarsene. E quello consentì di creare appunto una vera unità tra i lavoratori russi e ucraini e quelli di tutte le altre minoranze nazionali dell'epoca. Poi questo cambiò radicalmente sotto il regime stalinista che tornò ad adottare delle politiche nazionaliste, ma ciò non toglie che fu fondamentale questo che venne concesso. Lenin definiva l'impero zarista la prigione dei popoli, perché appunto la maggioranza della popolazione apparteneva a minoranze nazionali e fu grazie a questa politica lungimirante dei bolshevichi al riconoscimento del diritto all'autodeterminazione che questa situazione potè trasformarsi negli anni della rivoluzione e negli anni del regime bolshevico. E chiaramente l'autodeterminazione è cosa ben diversa rispetto appunto all'autodeterminazione che è stata riconosciuta per finta alle repubbliche del Donbass o la Crimea, dove appunto c'era un ruolo preponderante dello Stato russo che agiva in quei paesi. Quindi sicuramente il ruolo è razionario, dopodiché è evidente che il compito di abbattere Putin non spetta ai paesi occidentali, alle loro sanzioni, alle loro politiche, ma quel compito spetta alla classe lavoratrice russa. E peraltro mi ha stupito abbastanza vedere che pur all'inizio della guerra ci sono state proteste importanti in Russia contro la guerra, manifestazioni molto grandi con anche arresti, ora qua come sempre distinguere la propaganda dalla verità è difficile, ma sono state manifestazioni importanti e su questo rivendichiamo la posizione dei nostri compagni della tendenza marxista internazionale in Russia che hanno fatto una dichiarazione che abbiamo tradotto in italiano e abbiamo messo sul sito dove spiegano la loro contrarietà all'intervento che è stato portato avanti e questo è il loro dovere di internazionalisti in Russia. Però noi siamo qua, non siamo invece in Russia e noi dobbiamo opporci in primo luogo all'imperialismo dei nostri paesi, all'imperialismo occidentale che è altrettanto se non più responsabile ancora di aver determinato questa situazione con le sue manovre nei paesi dell'Europa orientale, con il suo tentativo di prendere il controllo in questi paesi, con il sostegno che hanno dato al movimento di Euro Maidan nel 2014 e al governo ultranazionalista ucraino che è quello che indubbiamente ha creato maggiormente questa situazione. Quindi il nostro primo compito è combattere contro i nostri governi, contro le nostre borghesia che portano avanti queste politiche, dire chiaramente anche che siamo contrari alle sanzioni che vogliono applicare, dobbiamo spiegarlo, queste sanzioni non fermeranno Putin, le sanzioni le hanno fatte anche nel 2014 quando ci fu l'annessione della Crimea da parte della Russia e non sono servite a nulla. In compenso queste sanzioni potranno avere delle conseguenze sull'economia mondiale che già si trova in una situazione di crisi, già sappiamo tutti abbiamo a che fare con il problema dell'energia, del caro dell'energia, le bollette e tutto quanto, questo peggiorerà ulteriormente la situazione, come al solito saranno i lavoratori che dovranno pagare tutto questo e quindi queste sanzioni serviranno più a creare problemi ai lavoratori nei diversi paesi che a fermare Putin. E quindi noi invece dobbiamo svelare quello che è stato il ruolo dei paesi dell'Unione Europea, in particolar modo dell'imperialismo americano nel determinare questa situazione e appunto il cinismo con cui hanno strumentalizzato la popolazione ucraina e poi l'hanno abbandonata all'attacco delle forze russe. Il nostro non può nemmeno essere un pacifismo to cure, non possiamo limitarci a dire vogliamo la pace, perché qua c'è tanti che vogliono la pace, anche l'Unione Europea è a favore della pace, prima che ci fosse l'invasione russa Draghi doveva volare a Mosca per discutere con Putin per cercare la cosiddetta de-escalation, questa è una pace che piace molto alle borghesia dell'Unione Europea, da una parte tenere il controllo dell'Ucraina e dall'altra continuare ad avere il gas russo a buon prezzo, questo non serve assolutamente a nulla, una pace di questo tipo non risolve nulla, pace ce ne sono di tanto tipo, anche gli accordi di Minsk erano degli accordi di pace ma che non hanno risolto nulla e dal 2014 a oggi ci ritroviamo che siamo punto a capo con una crisi ancora peggiore di quella che c'è stata nel 2014 e quello che è importante fare è lottare contro i governi e le politiche che stanno portando avanti e lottare invece per l'unità del movimento dei lavoratori a livello internazionale, lottare contro il veleno nazionalista che stanno in questo momento seminando a piene mani consapevole che nessuna soluzione è possibile a questi tipi di problemi sotto il capitalismo, inevitabilmente in un contesto di capitalismo ci sono questo tipo di guerre perché ci sono gli scontri tra i paesi per accapararsi le risorse, per accapararsi i mercati, per cercare appunto di scaricare, ogni paese cerca di scaricare sugli altri i propri problemi economici e questo è vero soprattutto in un contesto di crisi e da questo punto di vista è davvero fondamentale tornare alla politica di Lenin, alla politica rivoluzionaria, alla politica autenticamente internazionalista che appunto nessun popolo ne opprime un altro ma sono le classi dominanti che hanno interesse a portare avanti l'oppressione dei popoli per i loro interessi e questa politica di carattere rivoluzionario, internazionalista per l'abbattimento del capitalismo, per creare un nuovo sistema economico, un sistema di economia pianificato, basato sulle esigenze della collettività e non sull'esigenza appunto di piccoli gruppi di speculatori e gli oligarchi ucraini, gli oligarchi russi sono un perfetto esempio di questa elite che determinano le politiche dei governi, questa politica di carattere rivoluzionario, la politica portata avanti da Lenin nel 17 con la rivoluzione d'ottobre che portò appunto al riconoscimento, al diritto dell'autodeterminazione è l'unica politica che ancora oggi è in grado di unificare quello che i governi capitalisti stanno dividendo con questa guerra che stanno portando avanti e sulla quale dobbiamo avere appunto una nostra posizione indipendente, una posizione indipendenza della classe lavoratrice a livello internazionale e questo è il contributo che vogliamo dare in questa discussione e questo è il contributo che vogliamo dare nelle mobilitazioni che ci saranno nelle prossime settimane. Grazie a tutti!